Musica Buon pomeriggio e benvenuti a Pagine Vaticane da parte di Matteo Ciofi siamo qui nella splendida terrazza della residenza Paolo VI puntata speciale quella di oggi perché parleremo diffusamente del viaggio apostolico di Papa Francesco in Cielo e Perù partiamo però da domenica scorsa giornata nella quale il Santo Padre ha celebrato nella Basilica Vaticana la messa in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato da Vatican Media il servizio è di Giada Quilino vediamo non è facile entrare nella cultura altrui e mettersi nei panni di persone diverse da noi spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e alziamo barriere per difenderci il Papa guarda al mondo di oggi celebrando la messa in Basilica Vaticana nella 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato davanti a 9.000 tra migranti, rifugiati, richiedenti asilo di 49 paesi Francesco osserva come le comunità locali abbiano paura che i nuovi arrivati disturbino l'ordine costituito mentre i nuovi arrivati temano il confronto si tratta di paure legittime e dice dubbi pienamente comprensibili avere dubbi e timori non è un peccato il peccato è lasciare che queste paure determinano le nostre risposte condizionino le nostre scelte compromettano il rispetto e la generosità alimentino l'odio e il rifuto il peccato è rinunciare all'incontro con l'altro all'incontro con il diverso, all'incontro con il prossimo che di fatto è un'occasione privilegiata di incontro con il Signore a seguire nell'Angelus Papa Francesco ha chiesto ai fedeli di pregare per lui per l'imminente viaggio apostolico in Cile e Peru allo stesso tempo il Papa ha aggiunto come si debba superare ogni forma di religiosità abitudinaria e scontata un passaggio delle parole del Pontefice La vita di fede consiste nel desiderio di stare col Signore e dunque in una ricerca continua del luogo dove Egli abita questo significa che stiamo chiamati a superare una religiosità abitudinaria e scontatta ravvivando l'incontro con Gesù nella preghiera nella meditazione della parola di Dio e nella frequenza dei sacramenti per stare con Lui e portare frutto grazie a Lui al suo aiuto alla sua grazia cercare Gesù incontrare Gesù incontrare Gesù seguire Gesù questo è il cammino cercare Gesù incontrare Gesù seguire Gesù lunedì mattina presidente del Cile ce ne parla nel servizio Adriana Masotti vediamo di fronte alle autorità del paese il Papa riconosce subito il grande sviluppo della democrazia cilena a 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza ricorda che questo ha segnato il suo destino come popolo fondato sulla libertà e sul diritto e che nel tempo i cileni hanno saputo consolidare il sogno dei padri fondatori un impegno che però va sempre perseguito non è possibile accontentarsi dice e disconoscere che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia Francesco indica dunque la sfida lavorare perché la democrazia in Cile sia veramente un luogo d'incontro per tutti questo può avvenire se c'è da parte delle autorità e del popolo capacità di ascolto ascolto dei disoccupati dei popoli autoctoni spesso dimenticati di migranti, giovani, anziani, bambini e qui non posso fare a meno afferma Francesco di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta il Papa invita infine a prestare attenzione alla crescita di una cultura che sappia prendersi cura della nostra casa comune la terra nel pomeriggio il Santo Padre ha celebrato la sua prima messa in Cile nel parco O'Ighins davanti a 400 mila persone vediamo il contributo una folla festante accoglie il Papa fra canti e bandiere che sventolano la distesa di 400 mila persone nel parco O'Ighins a Santiago del Cile si stringe con calore a Francesco lì dove nel 1987 celebrò anche San Giovanni Paolo II lavorate per questo nuovo Cile per la pace e la giustizia le beatitudini vengono proprio a sradicare l'immobilità ricorda il Papa nella prima messa del suo ventiduesimo viaggio apostolico le beatitudini infatti non nascono da profeti di sventura che seminano delusioni o da miraggi che promettono felicità con un click nascono dal cuore compassionevole di Gesù che si incontra con il cuore di uomini e donne che pur conoscendo il dolore conoscono ancora di più il ricostruire come ha fatto tante volte il Cile nascono in sostanza da un cuore che sperimenta che la speranza è il giorno nuovo afferma citando Pablo Neruda e di fronte alla rassegnazione Gesù ci dice Beati quelli che si impegnano per la riconciliazione Desideri la pace? Lavora per la pace conclude Francesco il cardinale Raul Silva Enriches ricordava infatti la giustizia non consiste solo nel non rubare ma nell'esigere che ogni uomo sia trattato come uomo Sempre martedì il Papa si è recato nel centro femminino penitenziario di Santiago dove ha incontrato circa 600 donne detenute accompagnate dai loro figli il racconto è di Giada Aquilino vediamo È gioiosa e colma di speranza l'accoglienza del Papa al penitenziario di Santiago salutato come amico dei poveri e della giustizia colori e suoni scandiscono il suo ingresso l'affetto delle mamme, quei loro bambini i canti che riempiono lo spazio della palestra addobbata a festa dalle detenute sono in 600 in rappresentanza dei 50.000 rinchiusi nelle carceri cilene sono donne che chiedono perdono alla società e misericordia a Dio per i loro figli innocenti Francesco raccoglie il loro grido e le incoraggia molte di voi, dice, sono madri oggi vi è chiesto di dare alla luce il futuro di lottare per un domani migliore sempre possibile contrariamente a quanto dicono i cliché non vi lasciate trasformare in cose perdere la libertà non significa rinunciare alla dignità e alla speranza guardate sempre avanti il reinserimento per ciascuna è quanto dovete pretendere dalla società perché una condanna, dice il Papa, senza futuro è una tortura la giornata del Papa si è conclusa con l'incontro con i sacerdoti religiosi consacrati e seminaristi nella cattedrale di Santiago prima del meeting con i vescovi e la visita privata al santuario di San Alberto Urtado l'ultimo appuntamento per il Papa è stato l'incontro privato con la compagnia di Gesù mercoledì mattina il Santo Padre si è spostato a Temuco città della provincia di Cautin nel sud del paese dove ha celebrato la Messa il servizio diventare artigiani di unità questo l'auspicio del Papa la Messa celebrata a Temuco nella terra dove in origine abitavano gli indios mapuche Francesco saluta i membri di quel popolo e le altre comunità indigene locali tra busiche, canti, colori tipici della zona in un luogo dove, ricorda, si sono verificate gravi violazioni dei diritti umani con la perdita delle terre, il confino in riserve, le lotte per reclamare riparazione e autonomia Francesco esorta ad essere attenti alle forme di violenza che più che far avanzare i processi di unità e riconciliazione finiscono per minacciarli non si può chiedere il riconoscimento annientando l'altro spiega perché questo produce solo maggiore violenza e divisione la violenza chiama violenza, la distruzione aumenta la frattura e la separazione la violenza finisce per rendere falsa la causa più giusta per questo conclude, diciamo, no alla violenza che distrugge Nel pomeriggio il pontefice si è trasferito nel santuario di Maipù dove ha incontrato i giovani prima della visita alla Pontificia Università Cattolica del Cile da Vatican Media il contributo In queste nostre società liquide in cui troppo spesso ci si trova solo nella nuvola è fondamentale riscoprire il senso della comunità, del noi superando ogni forma di frammentazione e interesse individuale Visitando la Pontificia Università Cattolica del Cile nel 130esimo anniversario di fondazione Papa Francesco torna a incoraggiare un'alfabetizzazione integrale che sappia superare il divorzio dei saperi e dei linguaggi senza frenare lo sviluppo della conoscenza Dinanzi a centinaia di studenti ed esponenti del mondo accademico cileno il pontefice ribadisce che il servizio universitario deve sempre puntare al dialogo e all'incontro generoso tra le persone Un ateneo, infatti, dovrebbe essere un laboratorio capace di incorporare in sé la vita e il cammino del popolo superando ogni logica antagonista ed elitaria del sapere Nel discorso, più volte interrotto dagli applausi Papa Bergoglio rivolge grande attenzione anche alla sinergia tra rigore scientifico e intuizione popolare specialmente pensando alla ricchezza culturale delle comunità aborigine La giornata di ieri è stata contraddistinta dal terzo ed ultimo spostamento del Papa in Cile con l'arrivo ai Quique nel nord del paese nel campus Lobito il Santo Padre ha presieduto la celebrazione eucaristica Vediamo il servizio Terra dei sogni, stretta fra le dune del deserto e il blu del mare I Quique accoglie con gioia Papa Francesco la folla con abiti e canti tradizionali lo abbraccia nel campus Lobito dove celebra la messa Crocevia di popoli e culture I Quique è prima di tutto una città di migranti soprattutto da altri paesi dell'America Latina A loro pensa Francesco nell'Omelia quando ricorda che una partenza basata sulla speranza di una vita migliore è comunque sempre carica di paura e incertezza e chiede che I Quique continui ad essere terra di ospitalità festosa perché sappiamo bene che non c'è gioia cristiana quando si chiudono le porte Al centro della celebrazione il Vangelo delle Nozze di Cana Maria passa per tutti i nostri problemi familiari per accostarsi all'orecchio di Gesù e dirgli vedi non hanno vino Maria agli inservienti come a noi ricorda qualsiasi cosa vi dica fatela come Maria esorta Francesco bisogna riconoscere quindi coloro che hanno una vita annaquata bisogna essere attenti alle nuove forme di sfruttamento come la mancanza di casa, terra e lavoro al termine saluta il Cile e ringrazia specialmente per la presenza degli argentini perché l'Argentina, conclude, è la mia patria Nella serata di ieri il Pontefice ha lasciato il Cile per dirigersi in Peru a Lima seconda tappa del suo viaggio apostolico il programma di oggi ha visto invece l'incontro del Papa con l'autorità la società civile con il corpo diplomatico nel cortile d'onore a seguire il Santo Padre ha incontrato il Presidente prima di partire alla volta di Puerto Maldonado per l'incontro con i popoli dell'Amazzonia domani Papa Francesco sarà a Trugio domenica nuovamente a Lima prima della partenza per Roma e l'arrivo in Vaticano previsto per lunedì pomeriggio Restiamo ancora sul viaggio apostolico di Papa Francesco in Cile e Peru ed andiamo ad ascoltare l'intervista con il Cardinal Baldisseri sull'incontro del Pontefice con i popoli dell'Amazzonia il contributo è da Vatican Media vediamo Cardinal Baldisseri lei tra pochi giorni andrà a Puerto Maldonado in Peru lì il Papa avrà il primo incontro con i popoli amazzonici che cosa lei come segretario generale del Sinodo si aspetta da questo incontro e perché i popoli indigeni sono così importanti al punto del Papa avere convocato un Sinodo per loro? il Papa è molto sensibile alla situazione e alla condizione dei poveri in tutte le sue dimensioni ma in particolare vuole cogliere l'occasione del suo documento bellissimo quello dell'audato sì che ha lanciato appena due anni fa per poter mettere l'accento sulla custodia del creato e quindi anche dell'ecologia integrale e quando si parla di ecologia integrale significa non solo la creazione ma anche l'uomo che la abita e l'Amazzonia è singolare in questo perché è un polmone dell'umanità per la nostra vita allo stesso tempo dobbiamo conservarla e la conservazione comporta anche che i popoli che l'abitano possano vivere e possono continuare a dare il loro apporto fondamentale perché questa foresta meravigliosa possa continuare a compiere il suo compito che è quello di darci la vita e darci quindi un'atmosfera pulita darci l'ossigeno e i popoli che l'abitano sono là non solo perché loro sono persone umane e quindi hanno la loro dignità ma anche proprio perché daranno un contributo formidabile perché questo polmone dell'umanità possa continuare a darci la vita i Vescovi, la Chiesa in generale in territorio amazzonico è molto attiva quindi non è una novità anzi direi che il Papa ha colto l'occasione per dire ecco questo è il momento opportuno perché il mondo intero si interessi del tema amazzonico e gli indigeni, quelli che abitano sono veramente i primi a essere considerati ecco perché il Papa li incontrerà per primi il Papa che già ha una presenza mondiale e si fa conoscere per quello che è il suo carisma speciale e come leader mondiale morale e che dà delle indicazioni alte io credo che questo è il momento giusto per poter interessare il mondo intero e la Chiesa ha gli strumenti per poter fare questo lavoro e io dico l'organizzazione è grande, è importante con la sua presenza capillare in tutto il mondo che può sostenere non solo ma può anche sollecitare può dare entusiasmo dare anche i mezzi i mezzi di persone di organizzazione perché sia portato avanti questo grande discorso della custodia del creato per sé e quindi anche del territorio in sé ma soprattutto delle persone che vi abitano rispettando le loro culture aiutandoli a essere uomini donne la dignità della persona Nel flashback di questa settimana ritorniamo al 21 gennaio del 2016 e all'udienza di Papa Francesco con gli operatori dei pellegrinaggi e rettori dei santuari dal CTV il servizio è di Barbara Castelli Con l'accoglienza ci giochiamo tutto il santuario è realmente uno spazio privilegiato per incontrare il Signore e toccare con mano la sua misericordia è la riflessione offerta da Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo degli operatori di pellegrinaggi e dei rettori di santuari ricevuti in aula Paolo VI Nel corso dell'udienza il pontefice ha rimarcato che l'accoglienza è determinante per l'evangelizzazione perché a volte basta semplicemente una parola un sorriso per far sentire una persona accolta e ben voluta Chi decide di compiere un pellegrinaggio vive una spiritualità personale non di massa e nel solco di una storia millenaria porta con sé un desiderio speciale una preghiera particolare di fondamentale importanza dunque che si senta da subito accolto compreso e sostenuto sia sul piano materiale sia su quello spirituale è un'accoglienza del tutto particolare quella che offrono i ministri del perdono di Dio Il santuario è la casa del perdono dove ognuno si incontra con la tenerezza del Padre che ha misericordia di tutti nessuno escluso chi si accosta al confessionale lo fa perché è pentito è pentito del proprio peccato sente il bisogno di accostarsi lì percepisce chiaramente che Dio non lo condanna ma lo accoglie lo abbraccia come il padre del figlio prodigo per restituirli la dignità filiale i sacerdoti che svolgono un ministero nei santuari devono avere il cuore impregnato di misericordia il loro atteggiamento deve essere quello di un padre Il presidente turco Erdogan sarà ricevuto da Papa Francesco lunedì 5 febbraio il capo di stato turco tra i maggiori critici della decisione del presidente degli Stati Uniti di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme nelle scorse settimane aveva telefonato due volte al pontefice dopo l'annuncio di Donald Trump e in seguito al voto con il quale l'ONU aveva respinto la mossa della Casa Bianca La parola Papa deriva dal greco papas una espressione familiare per padre attestata a partire dal terzo secolo contestualmente a un analogo uso fatto per indicare il vescovo di Alessandria in Egitto il termine era usato già nei primi secoli del cristianesimo per rivolgersi ai membri del clero e soprattutto ai vescovi soltanto in un secondo momento verso il IX X secolo il termine divenne esclusivo del vescovo di Roma da padre in senso generale a padre in senso specifico il padre di Roma Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire tutto il viaggio apostolico di Papa Francesco in Cile e Perù su Salt and Light con la nostra copertura speciale di questo grande evento Allo stesso tempo prima di salutarvi vi ricordo anche che sul nostro sito salellucedv.org potete rivedere tutte le puntate di Pagine Vaticane cliccando sull'apposita sezione nella home page chiudiamo qui questa puntata speciale ma vi ricordo che subito dopo ci sarà un video con i momenti inediti e particolari di questa prima parte del viaggio di Papa Francesco in Cile è tutto anche per oggi grazie per la vostra cortese e attenzione buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a venerdì prossimo sempre alle ore 4.30 qui su Salle Luce TV con un altro episodio di Pagine Vaticane le viste a mi cuando nadie me amaste a mi cuando nadie me amò le viste a mi no es che sempre tan amato fuiste de nuestro senor che amati con sangra buona del segredo e nostro e protectore no es che sempre tan amato fuiste di nuestro senor Grazie a tutti. Grazie a tutti.